Buonasera, buongiorno a tutti, anzi signore e signori, sono Ronnie Rapponi e Polverigi ed ora è un personaggio che non sta molto nella casa del grande aggello, ma che qualche volta è comparso, comparirà di nuovo per fare un annuncio molto 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 importante. Ci andremo a collegare quindi in quel della Scandinavia con il nostro amico Babbo Natale. Ragazzi, bambini, sono Babbo Natale, mi raccomando, state a casa, non fate i casini, state a casa che quest'anno il Natale sarà pieno di ragazzi, per voi, per voi, per voi, e chi ve lo assicura il vostro amico Babbo Natale. Ciao a tutti e fate bravi, mi raccomando, soprattutto i ragazzini, ragazzi e ragazzini, bambini, fate bravi, fate.